A22, stazione autostradale di Affi. Inaugurata la nuova riconfigurazione della viabilità con l'obiettivo di snellire il traffico e fornire più servizi all'utenza e alla cittadinanza. Noi come A22 da sempre siamo molto vicini ai territori e anche qua abbiamo voluto ridimostrarlo. Peraltro però c'era anche un problema di viabilità che doveva essere risolto e dunque abbiamo cercato di mettere a fattore comune questi vari interessi. Abbiamo investito una bella somma però adesso il risultato si vede. È un buon risultato che aumenta, migliora la viabilità e poi anche garantisce ai nostri utenti un buon servizio con un aumento di numero di parcheggi. Gli interventi hanno coinvolto l'ampliamento della rotatoria, l'adeguamento degli accessi all'autostrada e alle altre strade provinciali, la creazione di un nuovo parcheggio. Un investimento necessario quello di autostrada del Brennero se si pensa che nel 2016, solo in questo punto, sono transitati in entrata e in uscita 9 milioni di veicoli. In quest'estate dove erano già presenti questi lavori di sistemazione della rotatoria non abbiamo più avuto nessun tipo di incolonamento sull'autostrada quindi oltre che tempi più contenuti anche sicurezza maggiore. Ma l'altra parte che è oggetto dell'apertura di oggi è l'ampliamento di tutti i parcheggi di scambio in corrispondenza di Afi che vuol dire oltre 120 stalli in più per le persone che arrivano in corrispondenza del casello autostradale e come oggi avviene normalmente lasciano un mezzo, ripartono insieme con un altro mezzo quindi siccome avevamo i parcheggi sempre strapieni, questo credo che sia vantaggio della città di Afi ma anche dell'accesso e dell'uscita all'autostrada. Afi come noto è la principale via d'accesso al Lago di Garda e al Monte Baldo. Da oggi è disponibile un'infrastruttura adeguata al volume di traffico di questa zona. Una nuova rotatoria, una nuova corsia interna, l'adeguamento della bretellina di collegamento sono solo alcuni degli interventi. Un particolare occhio di riguardo è stato riservato ai parcheggi. A nord della rotatoria è stato realizzato un nuovo parcheggio per autovetture dotato di 106 stalli. Aggiunti altri 40 posti nel parcheggio di A22 in corrispondenza della bretellina che conduce alla viabilità ordinaria. E proprio in tema di futuro qui si trovano concrete risposte. La 22 sostiene la mobilità elettrica. Cerchiamo anche di anticiparla addirittura e in effetti qua ad Afi già da tempo ci sono le colonine elettriche. Puntiamo anche per il futuro in un aumento delle colonine non solo come qua all'uscita al casello di Afi ma anche lungo tutta la 22. Le fasi dei lavori durati meno di otto mesi sono state programmate per ridurre al minimo i disagi alla circolazione.